Presidente, intanto un primo approccio avvenuto domenica, com'è stato? È stato bellissimo, come mi aspettavo. Cercheremo di riempire sempre di più questo stadio, dando i risultati che pretendono i tifosi e cercando di riempire nel miglior modo i posti liberi che c'erano domenica. È già stato però bello vedere uno stadio abbastanza gioioso, pieno, felice. Che emozioni le ha dato questa domenica? È stato emozionante, ho rivisto tanta gente che mi ricordava il passato, ho visto tanta gente felice, che è la cosa che mi ha reso più felice, ho visto anche un'accoglienza veramente calorosa, che mi aspettavo da buona cese, tra l'altro. Ricordiamo allora a questo punto che prosegue intanto la campagna di mini abbonamenti, quindi invitiamo comunque chi non lo avesse fatto fino ad ora, che è ancora possibile. Sì, 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 tutti i giorni vedo che continuano, anche se non sono presenti, mi comunicano che continuano a venire decine di tifosi per prendere questo mini abbonamento che abbiamo realizzato proprio apposta per le gare casalinghe che rimangono. Adesso 8, erano 9 prima, allo stesso prezzo. Abbiamo visto già qualche volto nuovo, stamani si attendeva tra l'altro la risposta per quanto riguarda il ragazzo brasiliano. Da questo punto di vista che notizie ci dà? Do la notizia che alle 2.30 si alleneranno con la Juniores, quindi vedremo questa amichevole. Sono venuto apposta da Roma per visualizzare alcuni giocatori che ci sono stati dati da osservare. Il brasiliano comunque credo che siamo a un buon 90% di probabilità che domani parte il tesseramento. Volevo specificare ai tifosi che il brasiliano non vuol dire che non arriverà l'argentino. Perché? Perché il brasiliano ha un passaporto italiano. Giocava però con una squadra argentina, quindi passeranno giusto una barra due settimane per chiedere nulla osta dal Brasile, però non vuol dire che non arriva l'extracomunitario argentino. Io sono stato a Roma dove sono stato a contatto con un avvocato della Lega che mi ha assicurato che accelereremo il più possibile per far arrivare quest'altra argentina. E' ovvio che dal prossimo anno le cose cambieranno perché pensandoci con i tempi giusti non dovremmo stare ad aspettare nulla. Invece è arrivato un altro portiere che ancora non ho avuto il piacere di conoscere, che però sia Sorbello che Tropea mi hanno detto sia di fattura molto superiore e vedremo pomeriggio come si comporterà durante il primo allenamento. Organizzazione societaria, manca ancora quella casellina dell'amministratore delegato o abbiamo delle notizie anche in questo senso? Manca come manca ancora la firma del passaggio definitivo di quote perché la situazione burocratica del passaggio di una società comunque non è una cosa che si fa sotto i giorni di Natale. Hanno iniziato lunedì scorso che era il 7, erano tutti rientrati dalle ferie. Credo che per martedì, mercoledì prossimo debba tornare giù per la firma definitiva, ma è giusto oramai una cosa formale. Però è giusto che tante cose debbano essere inserite non nel preliminare ma nel definitivo di vendita. E' ovvio la partita del 19 per me è molto importante perché è una partita che sarà la prima ufficiale da presidente, sarà la prima partita che faremo molto probabilmente in notturna, dico molto probabilmente perché ce la stanno mettendo tutta tutti affinché ciò non avvenga, è una roba pazzesca, però sono sicuro che riusciremo a portarla a compimento. Comunque vada, noi ci prolungheremo qua durante la notte con uno spettacolo o qualcosa. Adesso stiamo organizzando e credo che facciamo concentrare i tifosi, i giocatori alla partita di domenica e poi lunedì scioglieremo le nostre riserve.